Proprio in questo istante c'è stata una fortissima esplosione E lo Stromboli Sono a Panarea Qua sento che la gente è un po' preoccupata Un'esplosione incredibile abbiamo sentito proprio il botto Sì sì signor non si preoccupi Questa è stata più forte di quella dell'altra volta Addirittura qua dicono che è stata tre volte tanto quella dell'altra volta Alla prossima Si vede sul fianco della montagna Appunto moltissimo fumo che si alza Io mi trovo a Panarea in questo momento E qui si è sentito un botto Anzi in realtà due Uno dopo l'altro È una scena veramente incredibile Vai vai scappa Oddio che paura Scappa scappa Non ti preoccupare Oh Dio Santissimo C'è il fuoco C'è il fuoco No ti prego scappa Non ti preoccupare Guarda sopra di noi Guarda il fuoco Guarda il fuoco là Guarda il fuoco Guarda il fuoco Guarda il fuoco Già questo Guarda il fuoco Guarda il fuoco